Buonasera signori e signori, sono S88, benvenuti con la partita odierna tra Benfica e CSKA di Mosca tra S88, detto anche un esuggetto, contro Black Dany regaliamo le palle agli altri, non siamo il CSKA di Mosca, i bianchi con Onda contro i neri, quindi il Benfica allora, la partita di oggi è un amichevole online la seconda che la prima l'avevo fatta per riscaldarci e farà parte di una lunga serie di squadre orribili una controllata, vabbè queste non sono male CSKA, c'è Onda guardate qua come se ne va, il CSKA di Mosca di Luciano Spalletti no, Spalletti allo zero dai Onda oddio ma dove era il fallo, non ce l'ha mai il fallo sono in palle, sono in palle non ce l'ha mai il fallo e io non ce l'ho mai è solo il controviede si è spinto nel nulla si è spinto nel nulla il csk di bosca che in questa partita si gioca l'accesso ai preliminari europa lague dunbianghi nel 14 mi sembra che tra l'altro è uno dei giocatori più buggati l'incendio i partiti csk un brillante inizio sembra un attimino spegnersi però altri spazi palla agli avversari saranno dei momenti morti tipo questo ovviamente dobbiamo impegnarci un secondo tosic tosic dai marie maccani allora marie maccani cos'è sta roba io vorrei poter giocare con i cerchi eh fallo eh non lo so ma come buttati di ericis fissi alcuni tutti i dati non sono sensori di s non 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 scuola il possesso palla ma come fanno baggata manaccia a Kinkiev che non si fida della sua presa e poi scopo e beh, ce n'erano due tre attenzione Dumbia! 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 perchè Dumbia? e infatti se volete prendere una squadra molto pagata prendete il Cagliari su FIFA 13 perchè è veramente più pagata dunque 0-0 primo tempo equilibrato se non cambiano mentalità che non che risultato di una ragazza ci siamo abbiamo un pugno della nostra partita facciamo un pressing alto vediamo cosa cambierà nell'assetto tattico delle due formazioni in questa ripresa intercetta la palla raggiunge il compagno Pizzel si muovono bene Dumbia dai Belloso ma che fai sono ubriati insieme ma Pera era quello dell'Inter alvaro sa capitalizzare al meglio le valle qualche di capital hanno la possibilità di colpire il contropiede come la scluteranno? Wuh! Onda! Odò l'accidente è una prima macchia cani spero che Onda non riesco cioè non veda questo video perchè se lo vedi sappi che tua mamma è abbastanza particolare come signora e potrebbe essere un'occasione pericolosa e il rearo che macchia il bersaglio rischio Zagor rischio maschio me ne infischio Zagor Zagor chi è Zagor Zagor Zamora eh vabbè impaglio il livello di ubriachia dei miei giocatori è alto mamma mia che partita ecco oro simoni zumbia perchè la essi sta per simone c'è grande simone zumbia la prima vita è arrivata solo nel secondo tempo dunque vediamo se ce ne saranno altre attenzione di nuovo simone e zumbia al volo così c'è incredibile grafica al possesso paventi non diciamo cosa ha detto la valutazione di black danny riguardo cardoso evidente non è una delle migliori attenzione palla filtrante ma il mio figlio non nemmeno rodrigo la maglietta di rodrigo ma rameo insomma nello schema fuori gioco di 10.000 metri però vabbè la palla per zagoef zagoef cross per tosic no non si sa come onda su là da lontano questi tiri ce la vogliamo portare a casa questa partita ce la dobbiamo portare a casa questa partita questa partita s 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 1-1-1 tra Benfica e CSKA di Mosca grazie per la visione non è vero, stopperò qui il video comunque sia un saluto da I78 e da Fabio Caresa e Beppe Bergomi ciao ragazzi